no vabbè alzate te dico che stai a fa' che è quella roba fermate mo te dico ferma fate buono ho capito ma c'è sta Juventus Inter e fammi dar un po' di brio pure a me no fate quello che te pare ma ragazzo mio qua c'è una sfida veramente molto importante siccome ce l'hanno chiesto pronostico effemminato play ti posso dire una cosa che questo è più interessante del Napoli Juventus si ma volevo dire ancora più interessante addirittura FIFA 18 di conseguenza vogliamo andare immediati piano? oddio la cavistica cioè io ti ho detto piano già avevo visto il controller in aria quando in realtà vabbè ciao 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 ragazzi per il livello aaaaaaaah mi ha piaciuto fi stava di chess no no fi fighe 2018 ragazzi miei probabili formazioni belle che fatte ma prima di cominciare link in descrizione scaricate OneFootball eh certo che cos'è? la nostra applicazione di riferimento per sicure il mondo del calcio a 360 gradi detto questo se comincia vai tièe quando ti faccio io ma lo puoi lo fai tu lo puoi tu e Stefano Pava a sto giro le parolacce si spregano eh sì sarà sicuramente bippata però non lo so se lo bipperà, non bevano Inter 39, Napoli 38 Juve 37 la sfida del secolo perché si potrebbe decidere uno scudetto va bene? sfida decisiva e ricordiamo che Napoli-Juventus giocava con il Napoli imbattuto Juventus-Sider si gioca con l'Inter imbattuto ecco sappiamo già come è andato a finire quindi vincerò io praticamente anzi vincerai tu e allo posto se verifica al contrario e vince la Juventus di pala ci assomiglia sta anche alitando ma ho messo pausa io gli effetti di PES hai giocato a PES c'è la scusa? connessione a rete wifi interrotta ormai quasi immancabile non ci può fregare vede 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 eh capitolo eh badira badira eh badira badira eh badira badira- eh bulletin RIOTQU Brasiliano adecch- ooooh mannalo mannalo dentro mannalo dentro dai che la via dai che la via dai che la via Io c'ho quadrato, c'ho triangolo C'ho striangolo, che stai a fa? E' zitto che sto a cerca Qualche via di, qualche fava di fuga Ah? Ah? Chi è? Aiuto Ah? Ecco, mo comincio a fare miracoli Cos'era? E' un tiro, è un tiro parato da te Ti sei accorto che hai parato il tiro? Spada pin? Ah, la cura deviata eh Spada splin, Andanovic è sempre Sul pezzo del me C'ha 90 eh, nel senso 90 Perché sta bene Eh, t'ha messa a 90 Eeeh, dai Vatti benadiano 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 fa cosa, perché c'ho al fantapene Al fantapene Sta a forma al peragliare Ma se io cerco la cia Non so come c'è Vabbè, vabbè Ah, no, ne Aiuto Dai 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 Dai, ho attirato Dai, l'avevo capito, su Ho scaccolettato Borca Borca E t'ho capito Borca La filtranta La filtranta Oddio Era dentro Ma che l'hai parata Ma che ne so Ma non lo sai manco tu Ma non lo sai manco tu No io Io so tutto del più Via No, 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 no C'è un pericolo Ma dai Ma dai Fa schifo Ma io voto Mi si è fortunato Miranda È morto Mi si è fortunato Miranda Ne approfitto Ne approfitto Non ne ho approfittato Adesso faccio salire E poi faccio così Faccio la pipì Faccio la pupù Sono No Il c***o da parato Grande Portacci su S2 S2 Altra volta Vediamo Colpo sicuro Vabbè un po' la ciafrella Ciafrella Rangolata Rangolata che? E vai È una parata un'altra E che potrebbe essere Un'azione buona Me la sento È buona Me la sento Dai Muffanno Muffanno Ma vai di testa da là È impazzito È impazzito Sta bestemmia Si è incazzato Si è incazzato Ma la colpa credo che sia su Beh oddio Mamma mi ha fatto un altro miracolo La partita dei portieri La partita dei portieri Fino ora Aspetta l'inserimento Cagliardini Di è Ecco Cretino Ma io l'avevo schiacciato Ma non lì Ma io l'avevo schiacciato E' mia E' mia E' mia X-Files anche su FIFA Si E' No E' E' Che ha fatto E' pazza sempre Stori imbambito Vai quadrato Ma perché farà così Ma lo vedi come fa Lo vedi come sei Lo vedi come fai Tiro Oh la la C'ha la puttata E' finito il primo cesso Che falle Mi sentivo una razione buona Ma che si Tutti così dicono Guarda Compreso io Oh ma che vuoi Oh 9 tiri a 6 4 tiri a 4 Oh io perlomeno Che non sono arrivato a porta sempre L'avevo tirato Tu no Ma perché io Non ho tirato 9 contro 6 Hai fatto E' io 4 4 No Dai Oh che palle Sei sicuro? Ecco una parata un'altra Sa sicuro Sa sicuro Che falle Si un vantaggio Vodesegno Samir Voglio appena ti ha Voglio appena No chi è questo Ma va bene lo stesso Chi sia sia Se segna Ma ancora Mannaggia Questa è falla a casa mia Fallo ma state cito Guarda guarda Se ne va Ora prima La capolista se ne va Eh Vado l'inserimento Vado l'inserimento Vado l'inserimento Vado l'inserimento Vado l'inserimento Vado l'inserimento Che tira Che tira Tira via Scriva Guarda la testa Oh ma che è Sto c***o Si è fatto male il tuo Eh so fatto Infortunato È brutto eh Me l'ha ammazzato Bastardo Se ho fatto il ginocchio È scapocciato Che palle però Quando fa così Niente Chi ci metto Ci metto Fregniardeschi Però facciamo Così Vediamo un po' È caduto male Ma che ha fatto Ma possibile Si va bene Si è spezzato il braccio Dopo Dopo mezz'ora Ma se era fatto male Giustante Tu metti da là Tu metti da là E io esco fuori Ecco Oh Che era Sto c***o Chiudi tutto Perasic Prova la c***o Quanto ho Dannata Ma che c***o Ma dai Ma dai È il campione Quanto di FIFA È lui Chi è So io So io Fregniardeschi Ah Guarda se lo fa L'hai levato L'hai levato L'ho levato Stai a Rosic Io ho il controller in mano Chi è Spada pinna Guarda dove l'ho messa Dove l'ho messa Stranamente la Juve Passa il vantaggio Se si verifica Al contrario A sto giro Vince l'Inter Sarebbe clamoroso Sarebbe clamoroso Si ha bestemmiato Guarda guarda Se specorizzano Gli mette le mani sotto Vedi come Come fanno Ecco È lui È Fregniardeschi 1-0 Non so sbagliare Eh Ti sbagliare sì No Non errare Lo sapevo Prendila Dai che la recuperi Dai che la recuperi Che ce la fai Dai che ce la fai Tema Ah ciao Balla la palla Balla la palla Ma hai spaccato le facce Mamma mia Sto sbaccato Mi hai spaccato le facce Mi bana NIEEEE Bella È quasi da X-Files questa No qua Le va quasi Siamo una squadra fortissimi Fa tanti gente fantastici No Manda la profonda Come fa Stata solo E non essere fuori gioco Manda profonda Manda profonda Oh Mannaggia la pittana Eh vai c'è un buffon Ma che vuoi Eh che cos'è Portiere si chiama portiere Allora Se tu te fai vede sotto Io te la do Se tu te fai vede sotto Io te la do Se te li fai vede sotto Io te la ridò Guardami se lo fai vede sotto Se tu grossi Io te la do Ecco vai Eh al portiere E mannaggia la troia Ha vinto Ha vinto Eh che c***o Ecco Ho vinto Mannaggia Ma lo sai che significa Mo che l'Inter vince Ma che c***o Me ne frega Il vince Sinceramente Ecco Detto un poche parole Inter Che hanno fatto Che sta roba Se vanno bene E terzo tempo Non si stanno ammazzati Se toccano Se strusciano Se fanno Dice bravo 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 Ok Detto questo Adesso Prossimo pronostico effemminato play Oh 17 Ieri a 12 Ma te che stiamo a parlare Quanti like Prossimo video Rega questo era Big match Ne volevo una fracca Una fracca 4 mila Ce li date 4 mila Se stanno Se messe sbrocco Ragazzi miei Smettiamo la serie Pronostici effemminato play Succede il macello No Succede il macello Poi vedi come Come lo cacciano Come cacciate il like Perché qua funziona Solo al rigatto Funziona Ormai ho capito Mi piace Commentate Condividete Iscrivete al canale Link in descrizione Scaricate con football Ragazzi Applicazione di riferimento Per calcio A 360 gradi Ok Ciao Alla prossima